Bella a tutti i Forniteers, benvenuti e bentrovati su Leontube, eccoci in questo video per andare a vedere come fare gli incarichi della fase 3 con Wabunga, con massacro, eccoli qua, allora vabbè, ok, andiamoli un po' a vedere, raggiungi la top 25 dei giocatori rimasti, quindi bisogna arrivare nella top 25 abbastanza semplice, visita diversi luoghi indicati in una sola partita i luoghi indicati sono Riviera Raffinata, Residenza del Ribelle, Tana Tragodante e tutti quelli che vediamo scritti qui, in questi posti qua viaggia nel futuro lentamente, questa, lo vedete, la stiamo già facendo basta volare, ragazzi, quindi andiamo lentamente, cioè stiamo viaggiando nel futuro in questo modo qua, vedete che ci conta i metri, mano a mano che scendiamo dobbiamo farne 3, ce ne mancano 600, vediamo se alla fine ce li conta esamina custodie per armi, facile, andiamo qui a Riviera Raffinata dove vi ho fatto sempre vedere entriamo dentro il posto nascosto, c'entra poca gente, dopo vi faccio il video dedicato e ci sono 3 custodie accovacciati, salta e arrampicati, facilissimo, aiuta a eliminare gli scagnozzi della sua società quindi basta andare in uno di questi posti qua dove ci sono i boss e eliminare gli scagnozzi oppure molto probabilmente anche quelli delle torri tanto ecco qua che l'abbiamo già fatto, la stiamo già facendo la missione prendi o mangia fette di pizza dai cartoni delle pizze insieme ai tuoi amici anche qui bisogna mangiare la pizza 8 cartoni, quindi cerchiamo di farlo subito, danneggia gli avversari mentre sei in volo salta e spara, salta e spara, gli avversari andiamo a fare qui tutti dove sono tutti i boss che sono più semplici da fare saltiamo e spariamo, ancora più semplice lanciare una bomba grappola piccicosa e saltare mentre sta esplodendo in questo modo facciamo i danni mentre siamo in aria in aria e andiamo a vedere dove trovare la pizza allora per quanto riguarda la pizza andiamo qui dove ho pingato c'è Splinter, c'è l'NPC Splinter in questo punto qua all'incirca che vende la pizza quindi avete visto come è semplice fare gli incarichi di oggi uno in bocca al lupo a tutti e ci vediamo presto, facciamo i video dedicati per ognuno di questi ciao a tutti ciao